A Luchio di Tanto, il treno regionale 3935 in Granitalia, dell'ora 16.58, proveniente da Palermo Centrale, arriverà con 45 istituti di Tanto. Il treno regionale 3935 in Granitalia, dell'ora 16.58, proveniente da Palermo Centrale, che iniziamo. Iniziamo in questa città, riportiamo l'olio di Tanto. Iniziamo a New Tanto, iniziamo a lavorare in questa città. Iniziamo a un'olio di Tanto. Iniziamo a una città di fronte di Tanto, iniziamo da una città. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.